Abbiamo sparato allo stregone dell'atomo. Con queste parole Alfredo Cospito, 46 anni, a fianco di Nicola Gai, 44 anni, rivendica le responsabilità dell'attentato a Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, gambizzato sotto casa sua il 7 maggio 2012 a Genova con due colpi di pistola. Ieri, durante il processo con rito abbreviato, il centro della città era paralizzato dalle misure di sicurezza. Cospito e Gai hanno agito a nome della Federazione Anarchica Informale, il gruppo eversivo che ha rivendicato i pacchi bomba contro Equitalia e Deutsche Bank del 2011 e contro le ambasciate di Cile, Svizzera e Grecia nel 2010. Sostenitori del gruppo, circa 200 venuti anche da Spagna e Grecia, hanno sfilato in corteo per le strade di Genova. Per i due rei confessi, oltre all'accusa di lesioni gravi, furto e detenzione di arma clandestina, c'è l'aggravante della finalità di terrorismo. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto un risarcimento d'anni, per un milione di euro. All'apertura dell'udienza, Cospito ha letto un comunicato, tre pagine scritte a mano, da chi assisteva al processo durante la lettura, applausi, proteste e insulti. Anche l'altro imputato, Guy, si è presentato con una confessione. Nessun altro ha partecipato al nostro progetto, scrive. Ho comprato la pistola al mercato nero per 300 euro, siamo partiti il giorno prima da Torino. Nella ricostruzione del terrorista, l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, sorpreso dagli spari, avrebbe gridato, so chi vi manda. Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di carcere per Alfredo Cospito e 10 per Nicola Gai. La sentenza è prevista per il 12 novembre.